I bersaglieri oggi sono stati meravigliosi, sia con l'idea di questa staffetta che ha ricopreso anche Vittorio Veneto, pur non essendo Vittorio Veneto un posto dove furono allocate le salme che si andava riesumando, però Vittorio Veneto offrì una persona, Camillo De Carlo, che era vittoriese, medaglia d'oro, che era uno di coloro che portarono il ferretro fino all'altare della patria. Ha toccato anche il sacrario di Nervesa della battaglia con il ricordo della Quinta Salma, la staffetta della pace che unisce Trento e Trieste, ripercorrendo l'immaginario fronte del conflitto attraverso alcuni dei luoghi di memoria più significativi della Prima Guerra Mondiale. Organizzata in occasione delle celebrazioni del centenario della traslazione della Salma del Milite Gnoto dal cimitero di guerra di Aquileia al Vittoriano di Roma, la marcia a Cremisi della pace con i bersaglieri del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia si concluderà il 28 ottobre proprio a Monfalcone. Il Milite Gnoto deve essere un messaggio di fratellanza e soprattutto di pace tra popoli ed è per questo che la staffetta passa di mano in mano, questo simbolo di pace che viene trasmesso da staffettista a staffettista attraverso l'uso di questa mini campana della pace. Tante le autorità presenti ma anche le scolaresche coinvolte in questi giorni. Ricordare vuol dire tenere nel cuore, fare memoria perché invece è un fatto di comunità. Io da assessore all'istruzione credo molto che questa staffetta che oggi è passata e si è passata il testimone debba essere passato ai nostri ragazzi soprattutto nelle scuole. E proprio l'assessore Donazzan ha interpellato il ministro Bianchi affinché sostenga il prossimo anno una nuova staffetta della pace con un nuovo percorso in partenza questa volta proprio dall'altare della patria. Grazie.